Qualità e innovazione sono le caratteristiche della marmellata a marchio Consiglia della linea scelte su misura 100% frutti di bosco, grazie alle quali il Sun ha vinto il premio internazionale Salute Excellence 2017. Riconoscimento dato nell'ambito della rassegna PLMA che si è svolta di recente ad Amsterdam. Sono stato positivamente sorpreso quando mi hanno comunicato che ad Amsterdam all'interno della fiera, la fiera più importante della private label che è il PLMA, è stato riconosciuto un premio di eccellenza a uno dei nostri prodotti del marchio Consiglia. Tutti gli anni un gruppo di esperti in varie categorie assaggia, prova tutta una serie di prodotti PL di tutto il mondo, che vengono da tutto il mondo. E quest'anno all'interno della categoria del dolciario hanno premiato il nostro prodotto Consiglia scelte su misura per te confettura frutti di bosco. Quindi una marmellata di qualità eccelsa, anche perché il premio viene dato secondo degli item che vanno a toccare l'area dell'innovazione, l'area della qualità e l'area del packaging. Quindi tutte quelle aree che sono un po' alla base del nuovo sviluppo del marchio Consiglia. Quindi siamo molto molto soddisfatti di aver ricevuto questo riconoscimento e speriamo nei prossimi anni di riceverne altri. Da sempre la mission del Consorzio Sun è quella di mettere nel mercato prodotti che riescano a soddisfare appieno le esigenze dei consumatori, come ha dichiarato il direttore generale del gruppo Sun Stefano Rango. Siamo doppiamente soddisfatti proprio perché da alcuni anni a questa parte la nuova strategia sul marchio Consiglia è quella di andare a lavorare soprattutto nell'area della qualità. Quindi elevare il livello qualitativo dei nostri prodotti andandoci a focalizzare in quelle che sono delle linee più orientate a soddisfare quelle che sono le esigenze del consumatore, fermo restando la qualità eccelsa dei prodotti. Grazie a tutti.